buongiorno a tutti sono franco stoppini farò la prima parte della presentazione quella un po meno tecnica quella che comunque ci spiegherà un attimino quale è la posizione di infocamere all'interno dell'open source e come siamo arrivati a realizzare insieme a world phoenix il progetto di cui abbiamo parlato prima di cui ci ha parlato george ostner relativo all'end user experience infocamere come invece è stato introdotto è l'azienda che si occupa di gestire il patrimonio informativo delle camere di commercio italiane e di diffonderlo attraverso una rete che comprende 105 sedi staccate una per ogni provincia 300 sedi secondarie e ha circa 10.000 postazioni client che vengono che vengono utilizzate insomma per la gestione di questi di questi dati è un divisa in gruppo è un gruppo quindi a diverse aziende più piccole che si occupano ognuna di un aspetto particolare legato a determinati servizi determinati attività infocamere e open source dal punto di vista dei sistemi e degli application server dei database l'utilizzo in infocamere dell'open source risale già diversi anni fa ma soltanto nel 2010 abbiamo affrontato seriamente anche l'introduzione di sistemi che ci aiutassero a gestire tutto il nostro parco macchine tutta la parte system management legata inizialmente a quello che è la gestione dei sistemi e a breve abbiamo iniziato anche la stessa attività per tutta la parte che riguarda la rete. Prima di conoscere NetAI avevamo già avuto alcune implementazioni diciamo marginali di Nagios e il fatto di conoscere un'azienda che avesse sviluppato su Nagios un'interfaccia che ci aiutasse nella gestione in un ambiente abbastanza complesso di uno strumento open source ci ha fatto propendere per abbandonare la soluzione precedente un po alla volta e quindi passare su questo nuovo strumento. Noi avevamo diversi strumenti commerciali che utilizzavamo per controllare i sistemi e i servizi tra questi avevamo sia strutture con l'utilizzo di agent che agentless e tutta una parte che viene utilizzata per la verifica di apparati di reti. Al momento la migrazione verso il nuovo strumento è molto avanti abbiamo quasi terminato il controllo di tutti i nostri sistemi siamo circa al 90 per cento sono 1200 i sistemi e gli apparati di reti controllati in questo momento di cui però la parte apparati di reti veramente bassa la maggior parte sono di quelli che vedete qui dietro sono tutti server e abbiamo completamente abbandonato vecchi strumenti per la parte agentless e ci siamo praticamente in questo momento posizionati su più di 8.000 controlli singoli effettuati su tutti questi ambienti. Quando abbiamo esaminato NetAI abbiamo fatto un confronto con quelli che erano gli strumenti proprietari come si diceva stamattina l'open source sicuramente spesso rispetto agli strumenti commerciali ha alcune mancanze alcune funzionalità non sono presenti. Il motivo per cui abbiamo sostituito subito la parte agentless è perché effettivamente tutto quello che ci serviva era già presente abbiamo impiegato un po' più di tempo e stiamo completando la parte di migrazione di tutti gli altri sistemi controllati con un agente dove avevamo qualche necessità un po' più particolare. È in quest'ambito che effettivamente sono nate in collaborazione con WordPhoenix alcune applicazioni di cui avete visto prima una breve presentazione. La prima è l'action launchpad è una funzionalità che noi utilizzavamo molto quella soprattutto a livello operativo la possibilità di effettuare comandi su moltissimi sistemi magari nel momento in cui dovevamo andare a chiudere o risaltare la produzione a fronte di particolari interventi effettuare determinate verifiche con la sicurezza di non commettere errori e di poter fare questi comandi soltanto sui sistemi dove c'era effettivamente l'abilitazione ad eseguirla. Un altro strumento che abbiamo che WordPhoenix ha sviluppato con la nostra collaborazione in base alle nostre specifiche è quello che ci permette di gestire l'invio degli sms durante le ore diurne ma soprattutto durante le ore notturne per quel che riguarda il controllo automatizzato di sistemi e servizi quando i nostri sistemi e servizi in molti casi sono attivi H24 e quindi l'invio di questa messaggistica verso il nostro personale reperibile. Infine la real user experience. La real user experience è un tema che in infocamera ha cominciato a diventare importante già alcuni anni fa ma che abbiamo cominciato ad affrontare seriamente recentemente. La necessità ovviamente nasce dal fatto che tutti quelli che erano i vecchi sistemi basati su client server sono stati dismessi ormai quasi completamente e tutto è stato portato sulla parte web. Ovviamente cosa è successo? Che dovendo gestire ben 10.000 postazioni e capire di queste postazioni quindi il singolo utente se stava avendo qualche problema oppure no era sempre stata una cosa difficile. Una cosa molto difficile soprattutto quando si ha a che fare con un utente che lavora tutto il giorno con una vostra applicazione è quella di capire qual è la sua sensazione oggettiva perché spesso è difficile capire, saper distinguere tra la soggettività e l'oggettività di quella che è una vera misura di quelle che sono le sue esperienze lavorative sulle nostre applicazioni. Ecco che ci siamo quindi chiesti come fare a raggiungere questo obiettivo e abbiamo stabilito dei requisiti che sono stati poi sviluppati. Sicuramente il monitoraggio doveva essere passivo, non doveva quindi prevedere a bordo del client alcuna applicazione che andasse quindi a essere troppo invasiva. I servizi, essendo tra tutti i servizi web, dovevano essere riconosciuti e organizzati partendo dalla URL oppure comunque da URL anche complesse, dovevamo essere in grado di raggruppare il traffico che arrivava verso i nostri web server in base agli IP, quindi poter organizzare questi IP per reti e sotto reti in modo da capire la singola sede che tipo di esperienze stava avendo in quel momento sulle loro applicazioni. E soprattutto il cuore di tutto il sistema che sono le baseline, quindi una misurazione certa e certificata diciamo da noi che dicesse ok questo è il tempo che io mi aspetto dalle mie applicazioni, voglio essere avvisato quando per qualche motivo i tempi di risposta sono più alti o anche magari più bassi. E questa baseline rappresenta in effetti il cuore di tutto il sistema e ci permette anche di generare se necessario degli invidi allarmistica integrata ovviamente all'interno delle console di NetEye. Questa baseline viene organizzata su tre misurazioni diverse che sono la latenza di tipo applicativo, la latenza del server e la latenza del client. In pratica siamo in grado noi come utenti dello strumento di definire quelli che sono i nostri servizi e quelle che sono tutte le nostre postazioni. A questo punto lo strumento calcola diciamo tutte le possibili baseline e inizia ad effettuare la misurazione. Questa misurazione viene a un certo punto certificata e viene utilizzata come baseline. una volta che viene il sistema in produzione utilizza queste baseline ovviamente con delle misurazioni online e stabilisce se è necessario o meno l'invio di messaggistica di allarme. Oggi è stata fatta una domanda proprio qui a riguardo della baseline del real user experience. Ecco, avevamo discusso diverse volte con gli sviluppatori se era necessario fare una baseline che in qualche modo imparasse da sola l'evoluzione del servizio. Abbiamo deciso di no perché il rischio era quello che eventuali crescite nei tempi di risposta che avvenissero nel tempo in modo costante ma basso non ci facessero rendere conto che la nostra infrastruttura in realtà non era più in grado di offrire delle prestazioni adeguate. Quindi abbiamo deciso di fissare la baseline una volta per tutte e in caso di necessità quindi non so magari al fronte di una modifica di un architetturale della della messa in produzione di nuovo software avere la possibilità eventualmente da quel punto in poi di vedere rispetto al passato se avevamo avuto dei miglioramenti e in caso affermativo di ricalcolare solo in quell'occasione la baseline e quindi ripartire ad avere il nostro sistema di monitoraggio. La sonda passiva ovvero un'automa che andasse ad effettuare controlli sui nostri servizi era già diffuso da molto tempo l'utilizzo in infocamere ha veramente portato grossi benefici ovviamente sono due strumenti che non si sostituiscono uno con l'altro. Qui sono elencate alcune motivazioni per esempio la sonda automatizzata ovviamente controlla il servizio H24 anche se io in un certo intervallo di tempo sto dando il mio servizio perché è contrattualmente previsto ma nessun utente lo sta utilizzando la real user experience ovviamente non è in grado di dirmi se effettivamente il mio servizio in quel momento è attivo o no. Mentre una sonda automatica che ogni 5 minuti ogni minuto va ad interrogare il servizio riesce a darmi questa informazione ed essere quindi proattiva anche in momenti di basso utilizzo. Quindi questo è il motivo per cui continuano a girare insieme e cerchiamo anche di avere un controllo molto simile quindi ovviamente il tipo di controllo che andiamo a fare con la sonda deve attiva deve rispecchiare quello che poi andiamo a misurare con la sonda passiva. Ovviamente sono quindi due ambiti diversi l'importante è che la RUE cioè la real user experience viene utilizzata anche per misurare quelli che sono gli effettivi, le effettive performance cosa che sarebbe lo anche la sondativa ovviamente misura quelli che sono i tempi di risposta però sono legati soltanto a quella particolare interrogazione che vado a fare. L'utente ovviamente nel suo utilizzo del nostro servizio esplorerà tutte le possibilità, tutte le funzionalità e quindi avrò sicuramente dei dati molto più indicativi per quello che riguarda l'effettiva performance della mia applicazione. Questa è la configurazione che abbiamo implementato in infocamere. Abbiamo voluto creare un cluster tra due infrastrutture di NetEye, una dove effettivamente in questa application continuiamo ad utilizzare NetEye e soltanto NetEye, nell'altra l'abbiamo utilizzata invece soltanto per la real user experience. Ovviamente si tratta di due appliance in alta affidabilità quindi nel caso in cui uno dei due dovesse essere guasto, l'altro è in grado di prendersi il carico di entrambe. C'è poi una sonda ENTOP, ben posizionata sulla nostra rete, poi il mio collega Leo Renier vi illustrerà un po' meglio il suo funzionamento, che raccoglie tutti i dati e li scrive su un'area NAS. L'area NAS è la stessa utilizzata ovviamente dal cluster per andare a leggere tutte le sue informazioni, a fare le sue elaborazioni. quest'area NAS viene inoltre replicata nel nostro sito di disaster recovery dove è presente un'altra appliance unica dove girano NetEye e RUE e la real user experience e che è in stand by nel caso in cui fosse necessario. Non abbiamo per ora replicato la sonda ENTOP anche perché ritenevamo molto più importante avere sicuramente a disposizione comunque tutti i dati storici raccolti. in maragurato caso di una disaster recovery comunque sicuramente è un'attività molto veloce, basta prenderla, installarla nel nostro ambiente, tutto quella che è la configurazione e lo storico è già stato comunque salvato ed è già a nostra disposizione. Leo se vuoi sostituirmi. stiamo parlando di real user latency monitoring e quindi andiamo a vedere come vengono calcolate queste latenze. Qui abbiamo un esempio tipico che è quello di un pc che si trova nella sede remota, nel nostro caso potrebbe essere una sede camerale che deve accedere ad un'applicazione che si trova nel data center, nel mezzo abbiamo la rete geografica, per calcolare i tempi di risposta, per calcolare i tempi di risposta abbiamo bisogno di inserire nella rete una sonda, un probe al quale tramite per esempio delle sessioni di span vado a copiare tutti i dati, tutto il traffico dati dei segmenti di rete che io voglio andare a controllare per avere i tempi di risposta. Nel nostro ambiente di produzione abbiamo messo una sonda posizionata nel data center che va a controllare determinati segmenti di rete e in particolare controlliamo il traffico che arriva dai pc camerali verso le applicazioni intranet infocamere. Il real user monitoring suddivide le latenze in tre tipi client network latency, server network latency e application latency. La prima è abbastanza semplice è il tempo intercorso dal pc ad arrivare alla sonda e viceversa dalla sonda verso il pc e la latenza di rete. Analogamente abbiamo il tempo intercorso dalla sonda ad andare al server e viceversa. Questo è il server network latency. Il tempo trascorso dall'applicazione vera e propria per elaborare la richiesta, quello è l'application latency. E' chiaro che se ci vengono segnalati tempi di risposta alti, il problema potrebbe essere in vari ambienti, potrebbe essere nel pc stesso, nel pc oppure nella rete locale dove ha testato quel pc, nella rete geografica, nella rete locale del data center, nell'applicazione. E' abbastanza complesso. Però aver suddiviso il tempo di risposta in più latenze mi permette di concentrarmi, nell'eventuale che ci sia un problema segnalato, di concentrarmi dove viene evidenziato questo problema. Quindi o nella parte client, o nella parte server, o nella parte application. Dall'handshake, TCP, IP, SYN, SYNAC, HACK, possiamo andarci a calcolare le latenze di rete per la parte client e per la parte server. Dal momento in cui mi arriva dal client il SYN, il probe intercetta questa richiesta, è come se facesse partire un cronometro. Dal momento in cui il server risponde con il SYNAC, questo tempo di riferimento sarà il client network, scusate, il server network latency. Dal momento in cui dal client mi ritorna l'HACK, questo tempo è il client network latency. In pratica io devo andarmi a calcolare prima il server, network latency, e poi la parte client. Anologamente abbiamo per l'application, dal momento in cui sulla sonda mi arriva una richiesta applicativa, per esempio qua una GET HTTP, la sonda fa partire sempre questo cronometro, dal momento in cui mi arriva l'OK, stop il cronometro, e quello per me sarà l'application latency. Andiamo a vedere che cosa ci offre il Real User Monitoring. In primis andiamo a vedere la baseline. Come accennava prima il mio collega, l'utente deve andare a definire gli oggetti. Gli oggetti per noi sono le reti, le sottoretti e le applicazioni. E il sistema si va a costruire per ogni oggetto, si va a costruire quelli che sono i tempi medi di latenza, che prende come baseline di riferimento. A check regolari di due minuti, il sistema va a fare il controllo tra i tempi reali con i tempi della baseline. E il risultato viene messo nella colonna status. Se i tempi reali sono inferiori o perlomeno in linea con quelli della baseline, avremo uno status di OK. Se invece i tempi sono superiori, secondo una certa percentuale, allora avremo stati che possono essere di warning, di high warning, di critical e di high critical. In questo caso magari generare degli allarmi. In questo esempio ben particolare abbiamo una sede camerale che sta lamentando, qui è rosso, vuol dire che sta lamentando dei tempi di rete, dei tempi client, latenza di rete, alti. Ora, non so se si vede bene, ma la baseline indica 12.000 secondi. Il sistema manda un allarme se supera la baseline del 10% e se la supero del 20% mando un allarme di tipo critico. Baseline di 12.000 secondi e un'aggiunta del 20% vuol dire che arrivo a quasi 15.000 secondi. Quindi avrei uno sforamento di 3.000 secondi. In questo caso non posso mandare un allarme di tipo critico perché ho superato di 3.000 secondi la baseline. Allora viene introdotto un concetto di soglia minima che noi abbiamo impostato a 50.000 secondi. Questo vuol dire che se anche la baseline è superata del 20% ma sono sotto la soglia minima, se siamo in una situazione di questo tipo non devo generare alcun allarme e devo ritenere quei tempi di risposta come buoni e quindi avrei nella colonna status l'ok. Qui in questo caso invece abbiamo superato la soglia delle baseline, abbiamo superato anche questa soglia minima e quindi viene generato un allarme di tipo critical. Qui è high critical perché vuol dire che per 3 check consecutivi è stata superata questa soglia. una cosa analoga abbiamo anche se dobbiamo calcolare le baseline di riferimento e magari le baseline di riferimento mi dicono che la latenza è di 200 millisecondi non possiamo ritenere questa latenza media come buona allora viene introdotta anche qui una soglia massima da un'impostata a 80 millisecondi in modo tale che se anche la baseline di riferimento dovrebbe essere di 200 millisecondi viene abbassata a 80 millisecondi cioè alla soglia massima che posso avere. qui abbiamo il pannello relativo alle query il pannello è suddiviso in tre fasce, in tre sezioni la parte filter la parte filter, la parte tree e la parte details nella parte filter vado ad impostare qual è il tempo di riferimento per il quale io voglio visualizzare determinati dati una volta scelto questo tempo di riferimento qui nella parte tree posso andare a vedere i dati secondo le reti oppure secondo le applicazioni qui sono visualizzate le reti una volta che sono visualizzate le reti queste reti sono messe in un certo ordine ovviamente vorrò vedere in testa quelle per le quali mi viene segnalato un problema o perlomeno quelle per le quali ho degli allarmi una volta che clicco sulla sede in questo caso una sede camerale vedo per quel periodo di tempo quali sono le applicazioni che sono state utilizzate da quella sede camerale tra queste applicazioni ci saranno quelle che hanno avuto tempi di risposta superiori a quelle delle baseline e quelle invece che sono andate bene se vado a cliccare per esempio sull'applicazione per la quale è rossa quindi per quale c'è stato un allarme vedo quali sono gli indirizzi P e quindi gli utenti che hanno avuto questi tempi di risposta alti la stessa logica ce l'ho se invece di partire dalle reti parto dalle applicazioni anche in questo caso avrò la lista delle applicazioni per il periodo scelto vado a cliccare sull'applicazione troverò tutte quante le reti che hanno utilizzato quell'applicazione e poi ancora secondo una ottica drill down vado a vedere quali sono gli indirizzi P e quindi gli utenti che hanno avuto questi determinati tempi di risposta è possibile tramite questo flag andare a vedere quali sono il dettaglio delle URL che sono state utilizzate per quel periodo scelto ed è anche possibile avere il grafico che mi mostra come è stato l'andamento sempre per il periodo che ho scelto per quanto riguarda le tre latenze latenza client, server e application abbiamo ancora due cosucce e la parte grafici anche in questo caso nella sezione filter posso andare a selezionare quali sono i grafici che voglio vedere sempre secondo gli oggetti che ho definito quindi o application o reti o sotto reti in questo caso vado a vedere quali sono i grafici di una sede camerale suddivisi per tempo nell'ultima ora, nell'ultimo giorno nell'ultima settimana, mese e anno da ultimo la parte dove vado a fare le configurazioni qui vengono aggiunti gli oggetti che dicevo prima quindi sono reti, sotto reti, applicazioni le reti nel nostro caso possono essere un'intera sede camerale per sotto reti invece magari possiamo mettere le sedi secondarie di quella sede camerale primaria e poi vado a definire quelle che sono le applicazioni darò un nome alla mia applicazione darò un nome alla mia applicazione e qui avrò la sua urla di riferimento io avrei finito e vi ringrazio grazie a Franco Soppini e Leo Renier tempo per le domande volevo chiedervi voi misurate solo i tempi di risposta o andate anche ad analizzare quali sono le cause dei ritardi faccio ad esempio nel caso di un'applicazione web magari c'è stata una lentezza in accesso al database o nell'elaborazione di una certa pagina dinamica queste analisi andate a fare e se vi chiedevo se voi controllavate anche tipo applicazioni più client server o solo procedure web in questo momento facciamo soltanto un controllo delle applicazioni web come forse avete visto questa mattina nella presentazione di Gerhard Kostner sono previste ulteriori implementazioni dello strumento che permetteranno anche di approfondire il livello di dettaglio in questo momento non siamo in grado di andare a capire oltre questi tre tipi di latenze che sono state illustrate se c'è qualcos'altro perché ovviamente in questo momento interpretiamo soltanto quello che è il traffico HTTP per capire ad esempio a livello del database se ci sono stati dei problemi bisognerà ovviamente interpretare il protocollo che viene utilizzato per comunicare tra l'application server e il DB server e posizionare una sonda anche in quel tratto a quel punto saremo in grado di avere una misurazione della latenza ovviamente che avrà un livello ulteriore che è il livello database in questo momento però per come siamo strutturati e a livello attuale dello sviluppo in questo momento non lo facciamo ecco vorrei aggiungere una cosa che questo strumento era nato ovviamente nell'ambito dell'infrastruttura nell'ambito tecnologico quindi tra i sistemisti abbiamo scoperto invece un grandissimo interesse anche da parte degli applicativi che con questo strumento sono in grado di andare a capire molto bene intanto l'utilizzo che vengono fatti dei loro strumenti grazie delle loro applicazioni grazie al dettaglio che vi abbiamo fatto vedere dove si vede proprio ogni singola urla chiamata e anche per andare a capire cose strane proprio ieri facendo un'interrogazione sull'applicazione in compagnia di uno sviluppatore si è reso conto che c'era una chiamata da parte di un IP verso una urla che non si sarebbe mai aspettato insomma quindi ecco che anche situazioni anomale anche dal punto di vista dello sviluppatore possono emergere dall'utilizzo di strumenti di questo tipo buongiorno la scelta di passare all'open è stata politica o effettivamente avete avuto un reale concreto risparmio in termini di risorse di costi perché ho visto che la vostra infrastruttura è molto legata all'ambiente Linux Unix quindi c'era già una scelta a prescindere o avete avuto un riscontro rispetto ai sistemi proprietari che avete abbandonato la scelta sì il nostro ambiente è molto legato all'ambiente Linux con ancora un buon utilizzo anche della parte Windows stiamo quasi completamente ormai abbandonando anche dal punto di vista di sistemi operativi altri sistemi che abbiamo ancora abbiamo ancora in casa diciamo che ovviamente la scelta economica è stata quella che ci ha fatto propendere soprattutto per questo tipo di tecnologia sia per quanto riguarda l'ambito sistemi sia per quanto riguarda il system management anche se non è sempre vero che l'open source comporta automaticamente ovviamente una diminuzione di costi perché come si vedeva anche stamattina durante la parte di presentazione del forest mi sembra effettivamente l'open source ad esempio spesso ha dei costi di gestione un po' più elevato però l'utilizzo di strumentazioni che magari costruite sopra a degli open source affidabili ti aiutano nella gestione sicuramente comporta anche dal punto di vista gestionale una diminuzione dei costi tra l'altro abbiamo visto che proprio questo software di system management sta diventando veramente molto maturo diciamo che quasi mensilmente scopri nuove funzionalità che vengono aggiunte qualcuna magari la sviluppi insieme a chi ti ti dà supporto e comunque c'è stata anche diciamo anche una scelta se vogliamo anche politica di base già nel passato essendo una pubblica praticamente una pubblica amministrazione pensavamo Infocamera ha sempre pensato che la diffusione dell'open source fosse quasi un dovere e effettivamente diciamo che ci siamo trovati bene insomma adesso la scelta su Linux è stata fatta e sicuramente viene viene mantenuta pur utilizzando ovviamente software che ti permette di avere un'assistenza quindi una sottoscrizione non non utilizziamo se non proprio marginalmente open source dove l'unica fonte di assistenza diciamo la community Buon pomeriggio Buon pomeriggio e niente io volevo sapere una cosa dopo che è stato messo in piedi questo ambiente di fatto diciamo vi sono evidenti le problematiche che si generano vuoi sul network vuoi sull'applicativo rispetto ai flussi HTTP che si sono citati prima la mia domanda è cioè perché tutto questo funzioni probabilmente oggi magari non ne ho sentito parlare tantissimo c'è anche un dopo no? cioè nel momento in cui c'è la problematica diciamo deve scatenarsi un escalation di qualche tipo che poi corrisponde anche al concetto di SLA che è stato citato oggi più volte e penso voi stessi e i vostri fornitori devono probabilmente tenere come buona questa informazione che gli state dando quindi se c'è una linea che è lenta faccio un esempio il riscontro diciamo che il NETAI può dare tutto l'annesso e connesso deve essere in qualche maniera validato anche dal fornitore che deve immediatamente intervenire secondo i tempi di risposta sulla linea piuttosto che non so un pc a un virus piuttosto che questo è un vostro riscontro in questo momento? Per la parte tecnica poi risponderà no no sicuramente Leo una cosa che vorrei specificare è questa l'utilizzo di questo strumento in questo momento noi non stiamo generando degli allarmi online perché abbiamo preferito utilizzarlo come riscontro come strumento di analisi quindi a fronte di problematiche noi in questo momento andiamo sullo strumento e andiamo a vedere se c'è un riscontro e lo troviamo di solito e siamo in grado di avere una prima analisi può darsi col tempo quando saremo più esperti noi nel suo utilizzo lo utilizzeremo anche in modo proattivo quindi generando direttamente allarmi quindi usando proprio come uno strumento di controllo online per il resto sicuramente come abbiamo detto prima questo è uno strumento che ci dà una mano dà una mano a noi tecnici per capire dove può essere il problema poi sicuramente c'è tutto un lavoro che bisogna fare se evidentemente troviamo che da qualche parte nella parte rete oppure nella parte application c'è un problema lì va un pochino analizzato e va visto quello che effettivamente sta succedendo quindi va fatta un'analisi a posteriori dopo certo abbiamo anche altri strumenti che ci danno la possibilità di andare a verificare il perché di questi tempi di risposta alti va bene grazie a Franco Sopini e a Leone grazie grazie grazie